Ehi ragazzi un saluto da dottor Palmas e anche da Pietro che voi conoscete perché si occupa di fare le fotografie in clinica sia ai pazienti che ai denti e poi viene qua al dipartimento di marketing dove ci sono i ragazzi che fanno anche i video e si occupa di editare le foto. Io sono venuto qua un attimo e stavo guardando i denti cose che le ho detto che sono veramente belli questi denti facciamo veramente dei denti che sono fuori dal comune secondo me guardate qua la qualità di questi lavori e che si può diminuire a caso mai la luminosità così io faccio vedere perché sono davvero delle belle foto delle foto artistiche queste. Ti rendi conto poi quando editi le fotografie del livello di dettaglio che i tecnici ci mettono dentro a questi lavori si può zoomare si può far vedere ancora di più i dettagli ad alta risoluzione di questi lavori di queste arcate cioè qua siamo veramente a produrre dei lavori che sono protesi d'autore. Guarda qua le traslucenze che si vedono per esempio il bordo questo qui è il halo si chiama in inglese l'alone bianco perché sta sul bordo dei denti denti giovanili hanno dei mammelloni si vedono qua anche le scanalature che hanno fatto per suddividere i tre mammelloni dell'incisivo centrale. Guarda qua le linee qua di transizione tra la superficie frontale e la superficie laterale lo scuro che viene aggiunto per dare la tridimensionalità ai denti e poi il livello di dettaglio che si ha nelle gengive. Prova a spostare qua sulle gengive guardate qua le caratterizzazioni il rosso scuro il rosa pallido qua sulle gengive le scanalature che simulano i frenuli che abbiamo sulle gengive la simulazione delle papille interincisali e poi zoom indietro la composizione dentale rispettata. Gli incisivi laterali che sono più piccoli rispetto ai centrali di un millimetro più bassi rispetto all'incisivo centrale i centrali che sono più grandi dei laterali i canini che sono lanciolati a punta come pure questo e nella macro composizione che viene rispettata diamo delle piccole come dire asimmetrie di modo che poi il sorriso sia naturale. Prova a zoomare qua per esempio in questa zona guardate come anche qua abbiamo delle traslucenze riportate sopra questo incisivo laterale i colori dei denti sono dei colori che hanno una palette varia non abbiamo dei denti che sono completamente bianchi o delle gengive che sono completamente rosa ma abbiamo una certa variazione di colori una palette veramente ampia di colori che ci permettono poi di dare quell'aspetto iper realistico alla dentatura che viene messa agli altre fotografie qua dell'arcata questa è un'arcata per esempio superior che viene montata su impianti dentali ci sono i denti praticamente in zirconio questo è il livello prova a zoomare lì sul blocco dei denti posteriori questo è il livello di simulazione come facciamo qual è il segreto per fare i denti così belli segreto e farli col computer quindi farli non a mano metallo ceramica ma andarli a fare col computer caricare le forme dei denti che sono delle scansioni di denti reali questi sono denti reali e poi roboticamente vengono riprodotti e quindi tutto il processo di produzione è un processo automatizzato che ci permette di ripetere all'infinito quante volte vogliamo queste queste forme prova a zoomare qua per esempio guarda questa fotografia questo è il mock up per esempio la simulazione che viene fatta prima di montare i definitivi questa è un'arcata in plastica e dopo questa arcata in plastica quando viene confermato il design andiamo poi a produrre i denti definitivi prova a zoomare lì zoomare e anche qua vedi il livello di simulazione della gengiva artificiale queste sono protesi d'autore ragazzi e in poche lo capiscono in poche persone lo capiscono che sono veramente delle protesi queste che non è semplice trovare in giro questo livello di di iperrealismo e di passione nei lavori che si vanno a fare e noi ce li andiamo tutti a fotografare questi lavori perché così nulla si perde un saluto gruppo